Le cose più importanti negli affari sono l'onestà. Corruzione. Estorsione. L'integrità e il duro lavoro. Omicidio. Associazione a delinquere. La famiglia. Non dimenticate mai da dove veniamo. Chi cazzo è questo? Ognuno ha quello che è a questo mondo. E le cose sono due. O sei qualcuno. O non sei nessuno. Sei un amico. Il nemico pubblico numero uno degli Stati Uniti è l'abuso di droga. La mia impresa è mia. E la mia impresa vende un prodotto che è migliore di quello della concorrenza. Ha un prezzo più basso di quello della concorrenza. Sta rovesciando l'ordine naturale delle cose. Giudici, avvocati, poliziotti, politici. Se non entra più la roba nel paese, resteranno disoccupate centomila persone. Dalla mia indagine è chiaro che Frank Lucas è al di sopra della mafia nel traffico di stupefacenti. Compra direttamente alla fonte nel sud-est asiatico. Ha eliminato gli intermediari e usa aerei militari per trasportare eroina pura al 100% negli Stati Uniti. Nessun negro può aver realizzato quello che la mafia americana non è riuscita a fare in cento anni! Abbiamo un problema. Possiamo andare dove vogliamo. Mi affare che? Scappare? Nasconderci? Questa è casa mia. Qui c'è il mio lavoro. Mia moglie, mia madre, la mia famiglia. Questo è il mio paese. Io non me ne vado. Deve esserci ordine. Per noi l'ordine è più importante perfino della vita. Giuro che tiro fuori la pistola e vi piazzo una pallottola in quelle testa di cazzo. Hanno tentato di uccidere mia moglie! Io ho Harlem, Ricci. Mi sono preso cura di Harlem e quindi Harlem si prenderà cura di me e mi devi credere. Frank Lucas è l'uomo più pericoloso in circolazione in questa città.